Sembra essersi chiusa con un nulla di fatto, una settimana molto importante per le borse, per Piazza Affari e anche per le borse europee. Se guardiamo il Fuzzimib abbiamo nell'ultima seduta, venerdì, un risultato di più 0,07%, per cui quasi in linea con la vigilia. Però è un risultato che non deve anche, sono numeri che non devono tradire perché, cosa è successo? Che in realtà i mercati stavano andando abbastanza male fino a meno metà seduta, anzi per tre quarti della seduta c'erano cali. Poi c'è stato un recupero generalizzato che ha riguardato tutta l'Europa, i cui listini li vediamo tutti più o meno anche questi sui livelli della vigilia. Cosa è successo? Banalmente, come spesso accade, seguiamo Wall Street, tutti seguono Wall Street, che è aperto in rialzo dopo qualche giornata un po' di titubanza. Ha aperto in rialzo bene l'indice Standard & Poor's, ancora meglio l'indice Nasdaq, manco a dirlo, al traino della società star di questi giorni, anche di NVIDIA, che ha presentato appunto un bilancio per il primo trimestre stellare e i titoli di NVIDIA, pensate, hanno superato per la prima volta la soglia dei 1000 dollari per ciascun titolo. E quindi un bilancio molto importante per questa società e anche le altre si sono mosse dietro, le cosiddette Magnifiche 7, qualcuna un po' più titubante, qualche vagone potrebbe perdersi per strada, però questa è un pochino la tendenza. Guardando anche la prossima settimana, questa intanto si è conclusa per Piazza Affari con un leggero ribasso, siamo andati bene fino a metà settimana, poi abbiamo un po' perso quota e anche per gli altri comunque siamo sulla soglia, positivo o negativo, insomma ce la giochiamo per questa settimana, è una settimana molto importante. ovviamente a tenere banco sono sempre le attese, le aspettative per quello che faranno le banche centrali sui tassi di interesse e vedremo anche la prossima settimana cosa succederà soprattutto in chiave Federal Reserve. Intanto se guardiamo i rendimenti anche qui c'è una sorta di stasi, insomma il BTP decennale rimane al 3,89%, non molto diverso dalla settimana presente, anche la distanza dal Bund rimane attorno ai 130 punti base, siamo su questi livelli già da molto tempo e questo ci testimonia ancora una volta la fase, la lunga fase di attesa dei mercati di fronte a quelle che saranno decisioni chiave delle banche centrali.